Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale la dedichiamo alla vicenda Tari, coro di no all'aumento deciso dalla giunta comunale, arriva dalla commissione bilancio e programmazione. No alla proposta di deliberazione del consiglio comunale in merito al piano economico finanziario sulla gestione dei rifiuti, lo hanno espresso i consiglieri comunali Enzo Cirignotta, Romina Morselli e Simone Morgana della terza commissione bilancio e programmazione, Salvatore Scerra e Sandra Bennici si sono astenuti. Esaminando il piano, dicono i consiglieri, è palesemente emersa la volontà di procedere ad un aumento delle tariffe senza elaborare alcun piano di incentivazione a lungo termine legato al sistema premiale per l'utente che decida di svolgere la differenziata, atteso che ad oggi il sistema risulta infatto non esistente e non produttivo di effetti. Il PEF, rilancio dei consiglieri, interviene in sistema di proroga e non si rinviene negli atti in possesso della commissione alcuna azione e volontà dell'amministrazione dedicata al tempestivo avviamento della procedura di gara per la selezione pubblica ai sensi di legge di nuovo operatore. Io e il consigliere Morselli abbiamo motivato il no all'aumento delle tariffe tari per il 2017, ma per tre ordini di motivi. Innanzitutto ci troviamo in un servizio affidato ancora in regime di prorogazio, quindi si tratta di un servizio che non è stato messo sul mercato, con un capitolato d'appalto di forme da quanto prevede la legge, raccorta minima della raccorta differenziata pari al 65% e quindi contrastante con le disposizioni previste al diritto comunitario. Dopodiché l'amministrazione comunale non ha mantenuto gli impegni dell'anno scorso, che aveva dichiarato in aula che avrebbe introdotto il regime della premia all'età, più si differenzia e meno si paga. E poi è sotto l'archito di tutto che abbiamo un servizio in cui i costi sono lievitati notevolmente, 7 milioni siamo arrivati a 10 milioni di euro, ma la città continua ad essere sporca. Per questo diciamo no all'aumento della tariffa. Nessun problema per quanto riguarda un eventuale danno erariale, perché la legge prevede che le tariffe devono coprire i costi. In quanto la Corte dei Conti, con la deliberazione 49 del 2016, proprio a proposito di un quesito fatto al Comune di Gela, ha stabilito che il Consiglio Comunale legittimamente può anche non approvare il piano finanziario e le tariffe e l'amministrazione comunale si deve limitare semplicemente ad esigere le ultime tariffe approvate, che sarebbe quella del 2014. Riteniamo che in un momento così difficile per la città non è possibile e non è consentito mettere le mani nelle tasche dei cittadini e quindi siamo contrari assolutamente all'approvazione di questa delibera. E no anche da un'altra Gela, perché dice l'Avvocato Lucio Greco non si è proposta una diminuzione della tariffa ed invece si punta ad un aumento? Sentiamolo. Solo degli ingoscienti possono pensare di chiedere un aumento del 30% della tasse sui rifiuti. Solo degli irresponsabili possono pensare di continuare a chiedere soldi ai cittadini in un momento di grave crisi economica e occupazionale che sta vivendo la città. Solo degli avventurieri senza nel re e nel regno possono pensare di continuare a giocare sulla pelle dei cittadini. Perché dico questo? Dico questo perché se dopo tutti gli annunci e i proclami che sono stati fatti, se dopo tutte le promesse di cacciare via la vecchia gestione, se dopo tutte le spiegazioni date anche in televisione a colpi di diagrammi per spiegare ai cittadini che nella nostra città la raccolta differenziata è aumentata. E il risultato è quello di vedere che a gestire il servizio della raccolta differenziata nella nostra città è sempre la stessa società che gestisce il servizio da diversi anni. Con le stesse inefficienze, con le stesse carenze, con le stesse inadembienze, beh ci vuole una faccia tosta a chiedere un aumento del 30% della Tari. Anzi, una doppia faccia tosta. Perché anche l'anno scorso questa stessa amministrazione, questo stesso sindaco, chiedeva un aumento del 40% della tassa sui rifiuti. E devo dire che bene ha fatto l'anno scorso, ma sono convinto che anche quest'anno farà altrettanto bene il Consiglio Comunale, a bocciare questa proposta di aumentare la tassa della raccolta differenziata e quindi la tassa dei rifiuti. Ma il suo, come un'altra gela, è un no a prescindere? No, assolutamente. Io dico di più. Non solo è un no perché è motivato, ma questo no va anche in una direzione perché ci sono due principi fondamentali. Primo, chi inquina di più deve pagare di più e chi raccoglie o chi fa più differenziata deve pagare meno. E allora, se è vero quello che ci hanno detto i signori amministratori, che la raccolta differenziata nella nostra città è aumentata, non si spiega perché si continuano a chiedere aumenti della tassa dei rifiuti. E poi, permettetemi di dire un'ultima cosa, ma perché non parlate mai di premialità a favore dei cittadini che, devo dire, puntualmente continuano a fare la raccolta differenziata nella nostra città? Banche, usura e crisi di imprese. Si tratta del tema del convegno che si darà giovedì 30 marzo alle 16.30 presso la sala convegni della associazione antiracket Gietano Giordano di Gela in accorso Vittorio Emanuele 170. Saranno presenti tra gli altri Pietro Calabro, ex magistrato e presidente di SDL Centro Studi, il colonnello Luigi Macchia, comandante provinciale della Guardia di Finanza, Lidio Conti, GIP presso il Tribunale di Gela, Tano Grasso, presidente onorario FAI, e Giuseppe Scandurra, presidente nazionale della FAI. I lavori saranno introdotti da Renzo Caponetti, presidente del coordinamento antiracket della Sicilia. Decreti di confisca sono stati eseguiti questa mattina dalla DIA Direzione Investigativa Antimafia di Caltanissetta, emessi dalla sezione Misure di Prevenzione del Tribunale Misseno. Tra i destinatari c'è anche il giolese Alberto Cammarata, 47 anni. Per gli investigatori, Cammarata è risultato a disposizione dell'associazione mafiosa giolese Cosa Nostra ed in rapporto d'affari con la stessa tramite società a lui riconducibili. Al 47enne è stata applicata, emanata su proposta del direttore della DIA, la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di due anni. Confiscati l'intero complesso aziendale dell'impresa individuale in via Ruggero VII, l'intero complesso aziendale della società Unicam SRL con sede nella zona industriale, l'intero complesso aziendale della società Milano Infrastrutture SRL con sede a Milano in piazza 4 Novembre, 44 terreni, intera proprietà o in quota parte, che si trovano nel territorio del comune di Gela, tre autovetture e quattro rapporti bancari. Il valore complessivo dei beni confiscati ammonta circa 3 milioni di euro. Dissequestrati invece la società Enicos S.p.A., 11 terreni, un'autovettura e 6 rapporti bancari. Altro destinatario del provvedimento di oggi è Giovanni Privitera, sessanturenne di Vallelunga Pratameno, ritenuto uomo d'onore della famiglia mafiosa dello stesso paese. Il provvedimento è stato messo su proposta del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta. Le confischi hanno interessato una società a responsabilità limitata, un fabbricato ed un magazzino a Vallelunga Pratameno, un magazzino a Polizia Generosa in provincia di Palermo, 16 terreni estesi complessivamente in circa 18 ettari a Polizia Generosa e a Vallelunga Pratameno, due rapporti bancari e un'autovettura. La stima complessiva dei beni confiscati ammonta circa 1 milione e mezzo di euro. E a Vittoria la Polizia ha catturato il rumeno Johan Botezzatu, 28 anni, destinatario della misura cautelare della custodia in carcere per i reati di violenza sessuale, rapina e porto illegale di armi da fuoco. Il giovane è stato bloccato in un'abitazione di Contrada Valsechella, in territorio di Scoglitti. L'uomo è accusato di aver rapinato una coppia di rumeni a Marina di Ragusa, sparando alcuni colpi di fucile a scopo intimidatorio e tentando di violentare la donna. All'interno dell'abitazione del rumeno, sottoposta per acquisizione, sono stati rinvenuti numerosi oggetti di valore e di probabile provenienza furtiva, sottoposti a sequestro. Un arcobaleno di colori, sfumatore e sfaccettature è l'approccio integrato dell'Aias all'autismo che onorerà la seconda giornata celebrata in città, giovedì 30 marzo alle 9.30, con un convegno dedicato ai disturbi dell'ospetto autistico e le numerose metodiche di intervento applicate. Il centro di Borgo Manfria, sotto la direzione di Luigi Vilone, promuove nella sala conferenza della struttura un convegno dal titolo L'approccio multidisciplinare all'autismo dalla valutazione al trattamento. I lavori saranno introdotti dal neuropsichiatra Giuseppe Vaccaro, a capo dell'equipe medica di intervento, e dalla psicologa Tiziana Provenzano. E adesso occupiamoci della seduta del Consiglio comunale monotematico sulla sfiducia alla Presidente Alessandra Ascia. Il centro-destra questa sera parteciperà, non certo per fare da arbitri per la risoluzione di beghe interne alle forze di centro-sinistra. Il centro-destra parteciperà alla seduta monotematica sulla sfiducia alla Presidente del Consiglio comunale, Alessandra Ascia, prevista per questa sera una presenza, quella annunciata dai consiglieri di lista musumeci, Reset 4.0, Forze Italia, Lega dei Popoli e dagli indipendenti Salvatore Sammito e Sara Cavallo, garantita per correttezza, senso civico e rispetto delle istituzioni, non certo, scrivono in una nota, per fare da arbitri per la risoluzione di beghe interne alle forze di centro-sinistra. Definiscono la mozione l'ennesima pantomima, che vede ancora una volta il tentativo del centro-sinistra di assumere le vesti di attore principale della scena politica cittadina. In un momento di così grande difficoltà, affermano i consiglieri comunali di centro-destra, di crisi di immagine e di scarsa credibilità delle stesse istituzioni rappresentative, la seduta monotematica di questa sera ripropone in toni ancora più esasperati una lotta di potere e di riposizionamenti all'interno del centro-sinistra in vista delle prossime scadenze elettorali, che hanno finito oramai per stancare tutti. Si tratta dell'ennesimo sberleffo diretto a tutta la città, che sempre più attanagliata dalla morsa della disoccupazione e del disagio sociale, ci vorrebbe artefici consapevoli delle relative soluzioni. Criticano dunque fortemente la lotta interna sollevata dagli stessi consiglieri di centro-sinistra, sottolineando che dovrebbero essere altri gli argomenti di cui il Consiglio dovrebbe occuparsi in questo preciso momento. Temi come quelli del lavoro, della sicurezza, dell'ambiente e della sanità, conclude la nota, impongono una decisa presa di posizione diretta a fornire una immediata risposta alle criticità del territorio da parte delle forze politiche che, al contrario, oggi saranno impegnate nel dirimere pubblicamente e con costi a carico della collettività questioni interne al centro-sinistra. La richiesta di revoca del Presidente della Sede Civica è stata firmata dai consiglieri comunali Carmelo Casano, Giovanni Vanebianco, Giuseppe Guastella e Cristiano Malluzzo, tutti dell'area di centro-sinistra, Romina Morselli, del PD, Sara Bonura, del Megafono e Sandra Bennici, di Polo Civico. Entro il prossimo 31 gennaio al Comune di Gela è possibile presentare la domanda per richiedere l'assegno a sostegno dei nuclei familiari con almeno tre figli minori. I moduli dell'istanza sono disponibili sul sito internet del Comune o allo sportello del segretario sociale in Viale Mediterraneo. La domanda va corredata da una serie di documenti, tra cui l'attestazione is valida e relativa alla dichiarazione sostitutiva unica. Per i nuclei familiari di 5 persone l'indicatore deve essere inferiore o pari a 8.555,99 euro, mentre per le altre famiglie con diversa composizione il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza, secondo il decreto legislativo, sulle definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate. L'assegno sarà corrisposto dall'Inps con cadenza semestrale posticipata. E fino alle ore 12 del prossimo 30 marzo, esclusivamente per via telematica, sarà possibile fare richiesta per contributi economici mensili e prestazioni prevalenti in favore di disabili non autosufficienti nell'ambito del progetto denominato Oncare Premium 2017, rivolto a dipendenti e pensionati pubblici ai loro coniugi, parenti e affini di primo grado. Per il bando pubblicato dall'Inps offrirà consulenza uno specifico sportello attivo negli uffici comunali di Viale Mediterraneo a Gela. Ci fermiamo lì in allargia per la pubblicità. E' così seconda parte del telegiornale che apriamo parlandovi di un'iniziativa promossa a Gela dal Soloptimist Club. Il Corpo parla di noi è il tema del convegno promosso dal Soloptimist Club di Gela diretto da Maria Grazia Valconeri con il patroginio del Comune che si terrà domani alle 17.30 nella chiesa San Giovanni. Durante l'incontro saranno sviluppate diverse tematiche da relatori specializzati sull'argomento intervallate da momenti artistici. Introdurrà i lavori Valide Cannizzo, dirigente medico, igienista. Numerosi interventi previsti in scaletta. La scelta di questo tema nasce dalla voglia di riflettere insieme su questo fenomeno del corpo perfetto a tutti i costi. dai muscoli scolpiti e perché no abbronzato pallido a seconda delle mode ma nello stesso tempo dalla necessità di ripensarlo come qualcosa di non separato quindi corpo e mente come qualcosa di unico. e quindi quando la bocca tace il corpo parla e da qui la voglia di evidenziare come i disturbi psicosomatici spesso vanno letti in un contesto olistico. Mariuccia Palumbo, medico di medicina generale. Soloptimist Club è un club service di sole donne e siamo circa 50 e forse più donne impegnate nel sociale professioniste di ogni settore. Lo scopo del club è l'avanzamento della condizione femminile e la garanzia dei diritti umani per tutti. Tra gli interventi ci sarà anche quello della farmacista Anna Maria Aliotta. Le donne siamo tutte soci del Soloptimist e il dottore Di Modica è un nostro ospite. Appunto parleremo di questo argomento che ci sembra abbastanza attuale. Io nello specifico mi occuperò appunto dal punto di vista olistico nel rapporto tra il cervello e il nostro intestino. Esitarà giovedì 30 marzo alle 17.30 nell'ex chesetta San Biagio a Gela la conferenza sul tema Gela, terra di approdo, nascita e rinascita di una città di mare. L'iniziativa è della sozione moica preseduta da Saveria Lisciandra. relazionerà Francesco Russello, presidente dell'archeoclub di Gela. Si è parlato dei sistemi innovativi di adeguamento sismico del costruito nel corso dell'incontro che si è svolto ieri nella chiesa San Giovanni di Gela promosso dal Chivanis Club col patrocino del comune e la collaborazione degli ordini provinciali, degli architetti e degli ingegneri. Il modello condiviso nell'incontro è stato quello del centro di ricerca all'EDA dell'Università Core di Enna. Affrontare un problema così importante come quello dei terremoti credo che serva a prevenire e poter vedere quali sono quelle tecniche che evitano le disgrazie di domani. Quindi un incontro importante che serve proprio per attuare quelle tecniche che si conoscono e che molte volte non si sono usate e che adesso per legge bisogna adottare, visto che ormai l'adeguamento sismico è un obbligo e che noi dobbiamo necessariamente ormai adottare nella costruzione di nuovi edifici e nella ristrutturazione di vecchi. La Sicilia è a fortissimo rischio sismico, nella sua storia ha subito terremoti devastanti come quello del 1600 che ha colpito la Val di Noto, Ragusa e che è stato determinante per il barocco siciliano perché tutta la ricostruzione avvenne in quel periodo e non solo, altro terremoto delle dimensioni catastrofiche fu quello che colpì nel 1908 lo stretto di Messina e Catania. Purtroppo questi fenomeni sono ricorrenti per cui c'è da aspettarsi che queste azioni sismiche si possano riproporre anche con quei valori così forti come nel passato. La protezione civile nazionale sa bene del tema del pericolo che corre tutta quest'area e purtroppo occorrerà fare dei forti investimenti per mettere in sicurezza le nostre case. Il Chivanesi ha voluto organizzare questo incontro per dare l'opportunità di riflettere su nuovi sistemi innovativi di adeguamento sismico delle costruzioni esistenti anche in relazione ai costi elevati di adeguamento e ai costi in termini di vita umana. Ovviamente parleremo anche e porteremo a conoscenza il centro di ricerca Leda dell'Università di Core e quali incentivi sono previsti da una recente legge che è entrata in vigore. La libreria Mondadori in collaborazione con l'assessorato comunale alla cultura, l'archeoclub d'Italia ed il liceo scientifico Elio Vittorini presenta il libro di Carlo Ruta e Sebastiano Tusa in viaggio tra Mediterraneo e Storia. Appuntamento previsto per venerdì 31 marzo alle 17.30 nella chiesa San Giovanni. Dialogheranno con gli autori la professoressa Teresa Mommoliti e l'archeologo Angelo Mondo. Proseguono gli appuntamenti con la musica al Palazzo Principessa Roviano Pignatelli di Gela. Domenica 2 aprile alle 19 è previsto il concerto di Manuela Caserta, violino, Alfredo Borzi, violoncello e Tania Cardillo, pianoforte. L'iniziativa rientra nel cartellone dell'83 stagione concertistica gelese il direttore artistico e il maestro Crocefisso Ragona. Abbiamo concluso anche per oggi, grazie per averci seguito. Appuntamento alle prossime edizioni. Grazie.